L'installazione su tutti gli autobus di questo sistema, road scam, diciamo una scatola nera, consente di monitorare il mezzo dall'uscita del servizio. Questo impedisce i falsi incidenti e le frodi. Noi abbiamo scoperto nel corso dell'anno addirittura di autobus denunciati per incidenti che erano fermi in manutenzione. Questo è un forte deterrente. Prima di pensare di ora di fare una frode, qualcuno deve sapere che l'autobus è tracciato come percorso e come immagini. La spesa sostenuta ogni anno dall'azienda napoletana di mobilità per le coperture assicurative dei 600 autobus della flotta è al secondo posto delle uscite nel bilancio della società ed è quindi oggetto di grande attenzione per trovare soluzioni che la facciano sensibilmente diminuire. Una delle soluzioni adottate, in particolare per contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, è stata presentata oggi nella sala del capitolo del complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Si tratta di una scatola nera con la quale sarà possibile, come avviene già per gli automobili, tracciare ogni istante dei percorsi degli automezzi in modo da certificare gli eventuali sinistri e scoprire quelli falsi. I tentativi di truffa, grazie a verifiche più serrate, sono già diminuiti ed il numero dei sinistri si è ridotto da una media annua di 4.400 nel quadriennio 2008-2011 a 2.300 nel triennio 2012-2015 con una media per veicolo scesa da 6 sinistri nel 2011 a 1,3 nel 2015 e di conseguenza il costo del premio unitario per assicurare un autobus è sceso dai 15.000 euro rispetto ai 21.000 degli anni precedenti, una cifra che però è ancora molto più alta della media italiana. Storia recente di qualche anno fa che addirittura l'allora management dell'ANM dovette ricorrere a una sorta di precettazione del prefetto per avere i propri mezzi assicurati. Invece abbiamo in questi anni invertito la tendenza tant'è che ora le compagnie rispondono al mercato abbiamo delle gare regolari con un ribasso. Nei giorni scorsi, nei mesi scorsi abbiamo fatto partire anche quel provvedimento che è consentito a ANM di abbattere l'evasione dell'abiettazione sugli autobus prima in Italia, mi sembra, con l'utilizzo della Polizia Municipale questi interventi sulla gestione. Per quello che riguarda gli interventi invece che stiamo facendo sul servizio ANM è in corso, voi sapete, anche la gara dell'acquisizione di nuovi autobus, 60 autobus e a breve anche nell'ambito del Polmetro abbiamo avuto conferme anche ieri da Roma potremmo partire, io penso, nell'ambito di un paio di mesi un'altra gara per comprare altri 60 nuovi autobus così facendo anche la flotta autobus va a migliorare. Poi per quello che riguarda invece la metropolitana sapete che è in corso praticamente la gara ieri proprio si è insediata la commissione praticamente di gara una gara praticamente molto impegnativa però da fine 2017 dovrebbero arrivare, anzi arriveranno anche questi altri treni che ci consentiranno sicuramente di abbassare la frequenza del passaggio dei millimetropolitani a tempi, nei 5 minuti che ci siamo detti più volte che il target al quale vogliamo arrivare.